Conto alla rovescia per la firma sul contratto di Alberto Colombo, sarà lui l'allenatore che guiderà il Pescara stagione 2022-2023. Un fatto certamente positivo è che Colombo, uomo del nord, originario della provincia di Lecco e dal temperamento mite, intraprenderà questa sua importantissima esperienza professionale senza dinamiche o ruggini pregresse che avrebbero caratterizzato un nuovo avvento di Zeman. E poi è un tecnico duttile, tutt'altro che dogmatico, fatto non secondario, visto che negli ultimi anni la società di Rado ha soddisfatto le pretese degli allenatori a inizio stagione. Auteri, che predirigeva il 3-4-3, non ha avuto una rosa completa per quella esigenza, ma lo stesso dicasi per Oddo e Zauri nelle due stagioni precedenti, con entrambi gli allenatori costretti più volte a cambiare assetto alla squadra per quadrare la situazione. Colombo, si spera, saprà adattarsi al gruppo che verrà fuori dal mercato. Lo scorso anno a Monopoli ha giocato una stagione intera col 3-5-2, ma nelle stagioni precedenti aveva impiegato la difesa 4 con più modi di sviluppare l'assetto offensivo, dal classico tridente al trequartista più due punte, oppure il cosiddetto albero di Natale con due trequartisti e un centro avanti. Il Pescara cerca riscatto e una stagione da protagonista, seppur con un organico mediamente più giovane. A Pescara, Colombo cerca la consacrazione per dare una svolta alla propria carriera che da nove anni si sviluppa in Serie C, molto al centro-nord, le ultime due annate al sud con le pugliesi Virtus Francavilla e Monopoli. Una volta ufficializzato lo staff tecnico, ne faranno parte il vice Giuseppe Padovano e il preparatore atletico Renzo Ricci, entrerà nel vivo il mercato per allestire l'organico che a metà luglio, probabilmente tra Palena e Poggio di Città Sant'Angelo, inizierà la preparazione estiva. In rival adriatico Colombo ritroverà, di rientro da Monopoli, quel Gennaro Borrelli che al netto di un infortunio che lo ha limitato a inizio stagione, ha allenato e fatto giocare nella seconda parte della scorsa annata, 16 presenze e 8 gol in campionato, 5 e una rete nei play-off. Sarà lui a raccogliere l'eredità del Loco Ferrari? L'attaccante argentino ha speso anche recentemente belle parole per Pescara come destinazione prioritaria in Serie C, ma è possibile che il Napoli lo riesca a piazzare in cadetteria, si parla della consorella Bari. De Marchi rientrerà per fine prestito e sarà valutato dal neotecnico Alparidi Belloni, che torna da Limolese. Al netto dei Baby, delle Monache e Chiarella, dell'attacco non fanno più parte per fine prestito Dursi, Rauti e Cernigoi. Ci sarà ancora Clemenza, che potrà essere funzionale da esterno e ancor più da trequartista.